Buon giornata, questa è una giornata di festa, non possiamo che augurare veramente a Sorrento il meglio, ci sta il festival Villa Fiorentino, ci sta il turismo che si sta rilanciando, finalmente dopo 14 anni si è fatto quest'opera, come si sta preparando? Primo giugno... Domani Corpus Domini, quindi ci ritroveremo tutti quanti per la celebrazione, le celebrazioni religiose, siamo nel pieno di un'estate impegnativa, l'affrontiamo insieme, tutti quanti insieme, con la città, con consapevolezza. Come punto di riferimento proprio dell'aria, perché Sorrento ha, facendo diverse scelte forti, destination manager, diciamo un po'... Sorrento ha la responsabilità di essere il punto di riferimento dell'aria, quindi facciamo quello che il Padre Eterno ci ha indicato di fare, perché amministrare Sorrento non è una cosa comune. Grazie, grazie a tutti, buon lavoro.